abbiamo la possibilità di alzare il volume delle notifiche mia sorella ragazzi guardate cosa è nascosto sotto questo coso una schifezza quello originale italiano che cinese francesca quanto va veloce per quanto gira vediamo adesso accende il computer e mettiamo il timer batteria scarica io non guardo ragazzi ragazzi che cosa è uno no questi due giochi gli aspettavo un sacco dalla nintendo ho creato il canale di federico e la intro l'ho caricata prendendolo dal suo vecchio video e quindi sono un hacker mercolo amazzona tra l'altro si questo togliete a togliete la m e o così male a e z questo significa che amazon ai prodotti dalla a alla z non ci non ci mette mai fatto caso perché se stupide partiamo da dire che non so cosa servono questi buchi è lo speaker non è il microfono è lo speaker ok quindi devo risucchiare sono ok c'è google maps cioè google maps i pro costa poco quindi anche un tizio che vive per strada aspettavo un tizio che vive in strada c'è un computer un telefono per andare su amazon chi fa il qualcosa si ancora 4.4 di android.4 io ho già visto gameplay di favij ma favij è bravissimo io faccio schifo a sto gioco ragazzi oh che salto ragazzi oh dove è finita la tua famiglia la vorrei conoscere per capire se t'hanno fatto senza piedi o se puoi camminare distruggo col martello distruggi scala col martello music 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 mi servirebbe un po di vino magari mi distraggo anche se non lo bevo perché sono minorenne raga no no non ci potrò mai credere non ci crederò mai raga ce l'ho fatta raga come ultima cosa desidero dirvi grazie dei momenti fantastici che mi avete fatto passare e senza di voi questi 84 iscritti non sarebbero niente e quindi grazie tante di avermi fatto passare un anno fantastico anche se mi ha tolto tanto tempo libero il canale è sempre una gioia perché ho degli iscritti che so che la maggior parte a parte gli haters ovviamente mi stimano e allora grazie grazie spero che i fani che i fani moment vi siano piaciuti e arrivederci